Hanno raccontato la loro esperienza, la ricchezza del loro cuore, lo spirito della propria vocazione i quattro seminaristi della Diocesi di Ragusa che ieri pomeriggio sono stati ospitati nel Salone Parrocchiale della Chiesa di San Pietro Apostolo per un confronto schietto e aperto con la comunità. L'iniziativa che rientrava nel contesto degli appuntamenti previsti per i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Apostoli Pietro e Paolo è stata non solo molto partecipata ma ha fornito numerosi spunti interessanti circa le intenzioni di coloro che nel prossimo futuro ma anche già da adesso lo sono rappresenteranno gli strumenti di Dio della Chiesa Cattolica. Presentati dal parroco Don Salvatore Guarneri e dal vicario Salvatore Giacquinta alla presenza del rettore del seminario Don Giuseppe Antoci, i seminaristi Giovanni Filesi di Ragusa, Francesco Mallemi di Ragusa, Fabio Stracquadaini, Nicchia Ramonte, Filippo Bella di Comiso hanno raccontato la loro attività nelle parrocchie in cui sono stati invitati a prestare servizio e soprattutto hanno illustrato un'esperienza che in questi ultimi tempi li ha particolarmente formati all'interno della casa circondariale di Contrada Pendente nel capoluogo Ibleo. Ogni sabato e domenica negli ultimi mesi i seminaristi hanno fornito un sostegno concreto al cappellano del carcere e hanno preso atto dell'umanità esistente dietro le sbarre. Ci hanno raccontato le loro storie, hanno spiegato i seminaristi ed è stato bello vedere come la misericordia di Dio possa arrivare anche attraverso le strade più impensabili. È stato ed è emozionante vedere queste persone che lottano per rinascere ad una nuova vita, per scrollarsi di dosso un'etichetta che li marchierebbe per sempre.